Resta per il momento agli arresti domiciliari l'ex sindaco di Polignano Amare, Domenico Vitto, arrestato il 21 aprile scorso nell'ambito di un'indagine su presunti appalti truccati al comune del Barese. Il GIP del Tribunale di Bari, Angelo Salerno, ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare, nonostante le dimissioni. Si attende ora la decisione dei giudici del Tribunale del Riesame, chiamati a pronunciarsi sulla medesima richiesta avanzata dalla difesa di Vitto. Gli avvocati Michele Laforgia e Mauro Petrarulo. Proprio nelle scorse ore il Riesame ha revocato l'arresto dell'ex vice sindaco di Missionario di Polignano, Salvatore Colella, accogliendo il ricorso del difensore, l'avvocato Mario Malcangi, ritenendo cessate le esigenze cautelari. Anche nel caso di Colella il GIP aveva rigettato la richiesta. Nell'inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dal PM Michele Ruggero, Gli indagati complessivamente sono 24, tra dirigenti e funzionari del comune di Polignano e imprenditori, accusati a vario titolo di corruzione, concorso impeculato e turbativa d'asta, falso ideologico, rivelazione del segreto d'ufficio, omissione di ufficio, subappalto e illecito. Uno degli imprenditori, raggiunto da provvedimento di interdizione, ha già chiesto di patteggiare la pena.